Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Ultimo è in lutto per la morte della sua adorata nonna Gina, avvenuta all'età di 96 anni. La donna era spesso protagonista dei video social del cantautore romano e la sua scomparsa ha colpito profondamente tutta la famiglia Moriconi. Sandro Moriconi, padre di Ultimo, ha reso pubblico il triste annuncio della morte della madre via Instagram, con una toccante dedica alla donna che considerava un vero e proprio pilastro della famiglia. Nonostante il cantante non abbia ancora condiviso sui social un pensiero per la nonna, si presume che stia vivendo il suo lutto lontano dai riflettori e che parlerà della perdita solo una volta elaborata. L'ultimo video che ritraeva Ultimo Felice insieme alla nonna risale al 26 giugno, quando la donna annunciava la disponibilità dei biglietti per i suoi concerti a San Siro e allo Stadio Olimpico. La nonna Gina era molto amata e la sua presenza era un punto di riferimento per tutta la famiglia. La morte della nonna Gina ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Ultimo, che ha sempre mostrato grande affetto e stima per lei. La sua assenza sarà sentita profondamente da tutti coloro che conoscevano e amavano la donna, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori.